L'esperienza di oggi è un'esperienza interessante perché prova a fare il punto della situazione sulla ricostruzione pensando che ci possano essere molte attività di innovazione, sia dal punto di vista energetico, sia dal punto di vista della sicurezza, che dal punto di vista delle innovazioni e della domotica, insieme a come si utilizzano questi spazi. La nostra ricostruzione ha tenuto conto in massima parte di queste opportunità, anche inserendo queste nuove tecnologie all'interno di spazi vincolati. Questo è stato molto complicato, ma credo abbia centrato bene l'obiettivo che avevamo, e cioè quello di ricostruire, ma ricostruire meglio, ricostruire più sicuri, ricostruire con la capacità di utilizzo moderno di quelle strutture e per finire anche in modo intelligente dal punto di vista energetico. Credo che la scelta, oltre agli interventi importanti fatti sugli edifici, la scelta di fondo importante sia stata quella di portare in centro storico, laddove sono presenti molti di questi edifici storici, anche la possibilità di inserire il teleriscaldamento. E quindi una risorsa dal punto di vista energetico e dal punto di vista tecnologico importante, perché porta questi edifici ad essere più sicuri, più risparmiosi, diciamo così, dal punto di vista energetico e anche molto più moderni dal punto di vista ambientale, perché non rilasciano nell'aria inquinanti. Quindi credo che questa esperienza sia molto positiva e vada ripetuta anche nei prossimi anni, sapendo bene che le tecnologie avanzano e le situazioni di ricostruzione nel nostro territorio, stanno proponendoci anno per anno impostazioni diverse nella ricostruzione di questi edifici importantissimi per la nostra comunità.